aspettiamo un attimo intanto vi saluto buongiorno a tutti da trieste allora intanto buongiorno a tutti sono assieme alla mia famiglia manca mia madre mia suocera però so che sono con me le avvertite ieri adesso vi spiegherò il perché di questa diretta intanto voglio dirvi che sono tranquillissimo sono proprio sereno come vi ho sempre raccontato tutte le vicissitudini che c'erano qui a trieste assieme i miei colleghi i miei fratelli assieme a sicuramente la mia famiglia e adesso sono qui con loro qui c'è andrea buongiorno a tutti mia moglie francesca c'è anche il mio bimbo che logicamente non mostrerò in diretta allora ragazzi vi voglio dire cosa è successo ieri esattamente alle 16 e 30 allora ieri sono ritornato a casa dopo essere stato da avvocato a chiedere se c'era novità riguardo al lavoro alle 16 e 30 sono arrivato a casa ho trovato il postino e aveva una raccomandata da recapitarmi ho preso la raccomandata l'ho aperta era della mia azienda e quando ho aperto la lettera c'era scritto che sono stato licenziato al momento ho detto boh no la prima preoccupazione è stata da comunicare come comunicarlo alla mia famiglia logicamente nonostante sapessi che che era il mio fianco che è tuttora il mio fianco ma logicamente questa è una cosa la quale sapevo che potevo andare incontro ma la preoccupazione era prettamente per la mia famiglia per i miei amici e quindi io ieri ho dedicato la giornata ad avvertire chi è più caro a me perché non volevo siccome c'erano già state fughe di informazioni non volevo lo venisse sapere da altri e quindi per questo faccio stamattina diretta non l'ho fatta ieri perché mi sembrava giusto prima avvertire chi mi sta vicino allora adesso vi ruberò una decina di minuti non di più fino adesso io non ho mai parlato anche del mio passato dei miei trascorsi nel porto di trieste ma perché prima cosa voglio dire non sto facendo questa cosa per rendermi martire ma anzi lo dico proprio con con fierezza sono orgoglioso di quello che ho fatto io hanno fatto i miei colleghi hanno fatto i cittadini in trieste delle varie aziende trieste trasporti flex pittu e ivarzi da scusate se mi dimenticherò qualcuno sono orgoglioso di quello che hanno fatto i cittadini italiani che sono venuti al porto di trieste da da tutta italia bene questa è una conseguenza dovuto al fatto che noi siamo puri che crediamo nei nostri diritti e che non ci piegheremo mai a questo sistema marcio perché l'importante non essere mai a debito con nessuno non essere e non poter essere preso scusate francesimo per i coglioni e ricattato in nessuna maniera noi colleghi a trieste siamo da sei anni che lottiamo neanche più contro il sistema abbiamo avevamo creato un sindacato autonomo che attualmente sta venendo lo vogliono distruggere assieme a me prima per distruggere me poi per distruggere qualsiasi sorta di forza che si che vada a lottare contro il sistema voglio dare questo messaggio soprattutto ai delatori e e a chi fa parte del sistema perché lo sappiamo con certezza segue tutte le nostre vicende e con questo voglio essere chiaro sono sei anni in qua che provate a spiegare me e i miei colleghi non ce l'avete fatta mettendomi un gps sotto la macchina pensando di chissà che cosa riuscire a scoprire non ce l'avete fatta mano mano mettendomi la macchina l'automobile non ce l'avete fatta quando vergognosamente avete inquinato le mie urine con la cocaina c'è stato anche un processo è tutto documentabile basta digitale stefano puzza su google e viene fuori tutto e anche lì siamo riusciti ad andare contro il sistema non ci siamo piegati ed è stato ammesso che erano state inquinate le urine e quindi come tanti non lo sapevano ma adesso lo sapranno non è da ottobre che noi lottiamo contro questo sistema che non ha fatto altro che appoggiare tutte queste discriminazioni da ben sei anni senza metterci mai la faccia e anzi mantenendo chi ha fatto tutto questo ai suoi posti dirigenziali e addirittura a colloquare spartendosi i vari appalti le varie concessioni ma nei prossimi giorni ne parleremo più tranquillamente metteremo fuori tutte le carte e soprattutto le responsabilità di tutto questo io oggi sono qui per dirvi una cosa per era semplice mettere fuori la carta di licenziamento fare il martire farci piangere addosso povero stefano poverino peccato a me non interessa nulla di queste cose qui anzi sono fiero di essere stato coerente sono fiero di non essermi piegato al sistema sono fiero di aver detto una frase il 15 ottobre non andrò a lavorare fino a quando un solo mio collega non non potrà ritornare a lavorare questo fatto ma non mi non mi elevo a leader fenomeno capo popolo o altro io ho fatto solamente quello che qualsiasi lavoratore portuale avrebbe fatto o qualsiasi altro lavoratore dovrebbe fare non giudico chi è tornato a lavorare ci mancherebbe ognuno ha le sue responsabilità ognuno nel suo sa le responsabilità che aveva e quindi si ha fatto tamponi si ha usato il green pass io non sto a giudicare nessuno non l'ho mai fatto io vi metto solo al corrente io sono stato licenziato bene il licenziamento è una questione presa dall'azienda io mi batterò con tutte le mie forze contro questo perché non si possono permettermi di portarmi via da casa mia io l'ho sempre detto il mio lavoro è una cosa che è più di un lavoro un senso di appartenenza io sono un lavoratore portuale e prima o poi ritornerò a fare il lavoratore portuale questo è solamente una conseguenza di una persona che ha voluto combattere contro il sistema adesso passo ai ringraziamenti ringrazio in primis mia moglie poi neanche collega fratello e ringrazio tutti i lavoratori portuali con la quale lavoro da anni per il supporto e voglio dire a loro che sono fiero di appartenere no di essere di aver fatto parte ma di appartenere al mondo portuale sono fiero di averli avuto al mio fianco e sono fiero della lotta che stanno portando avanti comunque io vi posso dire solo una cosa l'importante e non essere mai a debito con nessuno perché se sei a debito con qualcuno possono ricattarti in questo periodo ci sono stati miliardi di delatori venduto ai secondi fini a me non può fregar di meno guardate come non mi interessa nulla della visibilità non mi interessa nulla delle persone che vogliono parlare male io posso solo dire che sono stefano puzzer chi vuole conoscermi ha la possibilità di conoscermi chi vuole capire veramente come stanno le cose può capirle io non mi sono mai tirato indietro e al sistema dico che se volevate provare a piegarmi estate provando a piegarmi prima con le denunce poi con licenziamento poi distruggendo sindacato autonomo che noi abbiamo fatto senza secondi fini nessun tipo noi abbiamo fatto sempre tutto a fin di bene per il bene delle persone prima con il sindacato e adesso lo stiamo facendo col comitato quindi a voi da fastidio che noi facciamo del bene vuol dire che ne faremo ancora di più perché io vi guardo con il sorriso il sorriso di una persona pura sincera che non ha paura di voi perché io la pasqua la passerò comunque serenamente io spero che voi che avete questa cattiveria dentro e che siete convinti di essere nel giusto e fate pensate di far del male alle persone io spero che ogni augurio che riceverete vi venga in mente questo video oppure quello che state facendo a tutti gli italiani che questa pasqua la passeranno in modo dismesso tanti magari senza un nuovo di pasqua da poter regalare ai propri figli voi mi avete portato l'uovo di pasqua bene e io vi darò la sorpresa vi mando un bacione auguro una buona pasqua a tutti da parte di andrea a palco a tutti auguri e io continuo a dirvi vi voglio bene e la gente come noi non molla mai l'ho sempre detto non è uno slogan e adesso ne vedremo delle belle buona pasqua signori miei vi voglio bene e a voi che mi avete licenziato sapete cosa vi dico vi voglio bene e spero che i ricatti alla quale siete sottomessi vi possa permettere di guardare comunque negli occhi vostro figlio e la vostra famiglia ciao a tutti buona pasqua